L'attività della piscina di Broni è solo sospesa, così il sindaco Antonio Riviezi, che tuttavia non nasconde la preoccupazione dopo la decisione della società GIS Milano di chiudere a seguito degli aumenti devastanti del prezzo dell'energia arrivati dopo due anni di pandemia che già di per sé avevano messo in ginocchio il settore. Della questione si è parlato nel corso del Consiglio Comunale di mercoledì e ha sottolineato Riviezi qualunque decisione sarà condivisa con i consiglieri visto che per riequilibrare la situazione e permettere la riapertura al momento il Comune dovrebbe stanziare una cifra che si aggira attorno ai 140.000 euro. I costi prospettati sono davvero alti e la cifra che dovrebbe recuperare la società che gestisce operativamente la piscina per raggiungere una sorta di pareggio è molto elevata. Non pagano l'affitto e questo è già una prima forma d'aiuto insomma, ecco, quindi però non è sufficiente, non è stato comunque sufficiente per evitare appunto le perdite che hanno accumulato. Qualsiasi decisione assumeremo io voglio comunque il sostegno e la condivisione di tutto il Consiglio Comunale e devo dire che c'è stata la disponibilità di tutti i gruppi presenti in Consiglio a lavorare insieme.